Il terzo gol in questo campionato a livello personale, il primo da tre punti. Ha un valore enorme la rete realizzata sabato scorso all'uscita da Michele D'Ausilio. Il trequartista ha deciso la sfida in trasferta contro il Crotone e regalato al Cerignola. Un successo che nella versione esterna mancava da oltre due mesi. Finalmente è arrivato anche il gol decisivo che abbiamo portato i tre punti a casa. E' un contento per la squadra, soprattutto anche il mister ha detto perché sono sempre subentrato un paio di volte dei gol. Mi sono fatto sempre trovare pronto. In trasferta abbiamo fatto sempre un po' di fatica. Domenica finalmente sono arrivati tre punti importantissimi per puntare al terzo posto. Mancano due partite, ci proveremo fino alla fine e poi vedremo come metterci in classifica per fine campionato. Tre reti tutte nel 2023. La prima in trasferta nell'1-1 contro il Giuliano, la seconda al Monterissi quando il Monopoli vinse per 3-1 e poi il guizzo dello Scida che ha regalato al Cerignola. Una vittoria di enorme prestigio. Quarto successo esterno in questo campionato per gli Ofantini dopo quelli ottenuti ad Andria, Foggia e Messina. Infatti non ci credevamo perché tutti quanti nello spogliatoio dicevamo questi qui due anni fa erano in Serie A e oggi siamo andati a vincere in casa loro. Una vittoria bellissima. Però se devo dire la vittoria più bella che abbiamo fatto fuori casa è allo Zaccaria. Il gol lo dedico soprattutto alla mia famiglia che sono sempre con me, alla squadra, comunque a tutti. Soprattutto ai miei figli, ai miei bambini e a mia moglie. Cerignola, quinto in classifica, a meno 2 dal Foggia quarto, a meno 3 dal Pescara terzo. Troppo tardi per il podio? Mancano due partite. Noi daremo la morte fino alla fine a prenderci il terzo posto. Come faranno anche le altre, come fa il Foggia, come farà il Picerno. Noi daremo tutto fino alla fine. Potrà cambiare il piazzamento finale, ma ai play-off il Cerignola ci andrà e proverà ad essere la guastafeste delle big. È il sogno che vogliamo. Noi ci proveremo. Poi vedremo dove riusciremo ad arrivare, se è così. Ma nello spogliatoio la parola Serie B la nominate? Sì, ovviamente. Soprattutto anche con il presidente e il direttore. Domenica c'è l'ultima in casa della regular season per il Cerignola. Al Monterisi arriva in Latina con fischio d'inizio previsto alle ore 17.30. Spero che verranno quasi tutti allo stadio. Stadio pieno, l'ultima partita in casa. Per l'atteggiamento non dovremo mai sbagliarlo. Dobbiamo tenere l'atteggiamento di Crotone, come vuole il mister, come avremmo fatto in tutte le partite. L'atteggiamento deve essere quello lì. Per l'atteggiamento di Crotone, come vuole il misterio di Crotone. Per l'atteggiamento di Crotone, come vuole il misterio di Crotone. Grazie.